buongiorno a tutti io sono chiara e su questo canale vi parlo dei quadri più conosciuti e a cui sono affezionata oggi vorrei parlarvi del ritorno del bucintoro al molo di canaletto giovanni antonio canal nasce nel 1697 a venezia e possiamo dire che è figlio d'arte perché suo papà dipinge le grandi scenografie per gli spettacoli di teatro e appena il piccolo giovanni si mostra in grado di aiutarlo lo porta con sé al lavoro pensiamo cos'è il teatro a venezia in quegli anni sono i primi anni in cui gli spettacoli non sono più inscenati solo all'interno delle case dei ricchi e quindi per un ristretto numero di spettatori ma vengono allestiti in un luogo pubblico nasce il teatro concepito in modo molto simile a quello dei giorni nostri vengono edificati luoghi in cui pagando un biglietto si può assistere a commedie o a spettacoli musicali il numero di spettatori cresce e solo a venezia all'inizio del settecento si contano ben 14 teatri il lavoro in questo settore quindi cresce e proprio in questo fermento si affermano i canal il loro talento viene apprezzato così tanto che da venezia si trasferiscono a roma per realizzare i fondali del teatro romano a roma oltre che lavorare intensamente giovanni canal detto appunto canaletto si innamora dei quadri dei pittori cosiddetti vedutisti come ad esempio van vitelli gaspare van vitelli è un pittore olandese considerato uno dei padri se non l'esponente principale del vedutismo ora piccola parentesi cos'è il vedutismo il vedutismo è una corrente pittorica che si sviluppa per l'appunto nel settecento e che ha come soggetto le vedute cioè delle scene all'aperto che possono essere ambientate sia in campagna che in città nel vedutismo il paesaggio viene rappresentato in maniera oggettiva scientifica potremmo dire non dimentichiamo che nello stesso periodo si diffondono le teorie illuministe secondo cui l'uomo deve comprendere la realtà con l'aiuto del metodo scientifico e quindi l'approccio per capire il mondo deve essere di tipo oggettivo in questo contesto in cui viene meno la parte allegorica della scena o l'interpretazione soggettiva di personaggi e ambienti nasce un modo di dipingere il più fedele possibile alla realtà un po' come la fotografia la realtà percepita così come si mostra senza un filtro emotivo a canaletto piace moltissimo questa corrente si cimenta nelle sue prime tele proprio a roma e una volta tornato a venezia si dedica completamente alla pittura inizia così la sua carriera come pittore riproducendo tantissimi scorci di venezia per essere il più accurato possibile canaletto si serve della camera oscura abbiamo visto il funzionamento della camera oscura parlando di vermer e della sua ragazza con l'orecchino di perla se vi interessa nella descrizione sotto il video trovate il link per vedere il video in pratica come funziona la camera oscura è uno strumento che attraverso la luce che entra da un piccolo foro e attraverso un gioco di lenti che riflettono le immagini proietta il panorama su un piano e proprio su questo piano il pittore può appoggiare un foglio e ricalcare l'immagine le linee di questa immagine non sono nitide e il pittore deve comunque fare un aggiustamento continuo tra il risultato della camera oscura e ciò che vede il suo occhio guardando la scena dal vivo quindi canaletto nello specifico esegue dei disegni attraverso la camera oscura e poi copia questi disegni sulle tele e da lì parte per creare il dipinto vero e proprio con i colori a olio e qui veniamo al nostro quadro è il 1732 e canaletto dipinge il ritorno del bucintoro al molo nel giorno dell'ascensione è un titolo lunghissimo è un dipinto che potremmo definire sontuoso canaletto è abituato a dipingere ogni scorcio di venezia ed era richiestissimo ha tantissimo lavoro soprattutto per il mercato inglese le sue vedute che fossero di san marco del ponte di rialto del molo del canal grande sono tutte apprezzatissime dall'aristocrazia inglese e pensate che a conservare la più grande collezione delle opere di canaletto è la regina elisabetta cioè o meglio oggi carlo terzo il ritorno del bucintoro è considerata una delle opere più importanti perché non solo è più ricca di dettagli rispetto al solito per quanto sembri impossibile ma anche perché la celebrazione del bucintoro è legata a un evento molto importante per la repubblica di venezia di quel periodo canaletto ha ritratto il bucintoro in tante tele cos'è il bucintoro il bucintoro è una nave militare molto snella che va sia a vela che a remi e che ha permesso alla repubblica veneziana attorno all'anno 1000 di sconfiggere la dalmazia che è grossomodo quella che è oggi la croazia proprio nel giorno dell'ascensione quindi da quel momento fino a tanto tempo tanti secoli fino al 1797 ogni anno a venezia c'è una cerimonia che ricorda questa vittoria e che viene chiamata lo sposalizio del mare in cui il doge per l'occasione getta un anello nel mare rinnovando così il legame tra venezia e il suo mare in questo quadro il bucintoro è appena giunto di fronte a piazza san marco ed è bellissimo con la bandiera al vento tutti i fregi dorati drappi rossi è un arrivo molto scenografico e tutto attorno al bacino di san marco vediamo un'infinità di gondole di piccole imbarcazioni su queste imbarcazioni ci sono gli aristocratici aristocratici che desiderano vedere il bucintoro da vicino e non vogliono perdersi il suo arrivo il bucintoro è sulla destra e tutte le linee prospettiche convergono su di lui però al centro del quadro in realtà ci sono i palazzi veneziani che sono contemporaneamente sia uno sfondo dietro l'imbarcazione sia i protagonisti della scena ogni palazzo è ricchissimo di dettagli l'aria in questa laguna è terza e quindi si possono apprezzare tutti i particolari architettonici a differenza dell'architettura invece i personaggi sono riprodotti con pennellate più rapide e meno dettagliate questo perché l'illuminazione proviene da destra illumina bene i palazzi mentre le gondole e le figure umane sono quasi in controluce quindi si vedono meno bene rispetto all'architettura la profondità è determinata dalla sovrapposizione delle imbarcazioni e dalla loro progressiva diminuzione di grandezza pur essendo un quadro fedelissimo alla realtà che teoricamente potrebbe risultare freddo questa tela è molto movimentata e tra il bucintoro e tutte le barche che vanno e vengono l'atmosfera è piuttosto viva quando il mercato si stanca dopo tanti anni delle vedute di venezia canaletto andrà a vivere a londra e dipingerà diversi scorci della città per gli stessi clienti che volevano gli scorci di venezia conquista quindi il mercato britannico con opere che ritraggono ambientazioni più vicine ai suoi clienti canaletto muore a venezia nel 1768 ed è considerato il vedutista per eccellenza conosciuto oggi in tutto il mondo ma i suoi quadri non sono importanti solo a livello artistico negli ultimi anni infatti si sono dimostrati fondamentali anche per studiare il livello del mare a venezia nel 1700 e affrontare il problema più grande che affligge la laguna cioè il fenomeno dell'acqua alta se il video vi è piaciuto potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati noi ci vediamo tra un paio di settimane potete iscriviti al canale